Il successo è rispettando e valorizzando i loro precisi e la nostra identità. Questo è quello che noi amiamo e stimiamo di Francesco Totti e siamo qua a scegliare un rapporto indissomibile tra questa città e questo campione che veramente merita tutto il nostro apprezzamento. A voi Francesco Totti. In particolare, mi ringrazio per sempre, ringrazio il sindaco per questo bellissimo evento, spero di non fermarmi a questo record che ho fatto, spero di continuare e spero di di trovare questi ragazzi, la voglia di divertirsi, la voglia di divertirsi e di un pallone. Speriamo che vi possa riuscire tantissimi altri doze, di altri del Piero, di altri giocatori importanti, perciò aspettiamo loro e l'importante è lo studio, quello prima di tutto, non fate quello prima di tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.